Potevano raccontarvi questo magnifico anime per intero? Haha, inizia il riassuntone e per quelli che non conoscono l'anime, preparatevi al peggio. Il protagonista viene preso in spalla e portato a casa di una sua compagna di classe, ovvero Inukai, una tipa poco sorridente ma che si comporta in modo diverso con lui. Chissà perché, e chissà perché lo sta portando nella doccia, e chissà perché si sta spogliando, e chissà perché lo sta lavando da nuda. Allora, lui è un cane e sta facendo il bagno con quella che era la sua compagna di classe, che a quanto pare ama i cani, talmente tanto da limonargli il muso. Tra l'altro a lui è sempre piaciuta Inukai, così diventa il suo cane e viene chiamato Pocita. Vi ricorda qualcuno? Ed ora parte il delirio! Adesso l'obiettivo è tornare a casa sua per cercare qualche indizio sul cosa si è successo, solo che non è facile perché tra una sbirciata, una pisciata e una... Apprezzata? Ecco che appare un'amica di Inukai, nonché la vicina di casa del protagonista, così parte il piano per farsi invitare a casa sua. Solo che lei ha paura dei cani, ma in qualche modo per levarle un insetto entra dentro i suoi vestiti e lo scaccia e poi lecca le sue ferite. Inukai super gelosa si fa male apposta, si fa leccare piedi, e lo fa entrare sotto i suoi vestiti. Non ce la posso fare. Amicizia fatta e non solo. Inukai si veste da cane per cercare di comunicare con O, non ce la posso fare. Si recano a casa di Karen, la sua vicina, e lui approfitta della consegna di un corriere mandato da lui la sera prima per scappare e atterrare sul suo balcone e trovarsi la sua amica d'infanzia in camera sua, che stava curando le sue piante e strusciando la sua patong sullo spigolo della sua scrivania a causa della sua mancanza. A quanto pare lei è innamorata di lui. Lungo la strada trova Pocita, se lo porta a casa sviene per la febbre e lui la sveste dai vestiti fradici. Inukai lo trova, si ingelosisce, ma l'amica d'infanzia Usagi non vuole ridare il suo senpai. Si, l'ha chiamato così. E allora fanno una simpatica sfida. Ovvero che il cane deve scegliere sotto quale gonna andare. Usagi prova a barare infilandosi un osso nella patong, ma alla fine viene scoperta e vince Inukai. Al protagonista tornano i ricordi e scopre che è stato trasformato in un cane tramite del cioccolato consegnato da una ragazza a scuola e il tutto accompagnato dalla frase Da parte di Inukai. Si, certo. Così lui in qualche modo si fa portare a scuola e tra il festival scolastico a tema cani e un bagno con la vicina mezzanuda inseguita proprio dai cani Dove gli dice che sembra un umano e gli fa vedere che Inukai aveva avuto un altro cane in passato con il suo stesso nome Si ritrova la ragazza che ha drogato al caffè e le lecca i pie... Perché hanno avuto l'idea geniale di aumentare la clientela facendo questa cosa. Fatto sta che dopo la leccata la insegue e la raggiunge nel suo laboratorio Dove spiega che lo ha sempre spiato ed è solamente vittima di un suo esperimento Gli dà uno strumento per poter comunicare e racconta che l'unico modo per poter tornare umano È un bacio come nelle favole Diciamo più una limonata con scambio di fluidi con un cane E non è necessario farlo sulla bocca A detta sua ci sono altre labbra... Ma lui rifiuta di farlo perché non può rubare una cosa così importante a Inukai Ovvero il bacio E quindi decide di rimanere un cane Fine della storia Baci baci Non canini Essi poi nella scena finale fanno la lotta per allattarlo Fine davvero dell'anime Anche se è già uscito un'ova Ma perché?